Grazie a tutti Grazie a tutti Per seguirmi da 3 anni E sopportarmi da 3 anni Perché non sono una persona normale Oggi allora ho deciso di fare qualcosa Di più Da palestra atletico Figo No in realtà è yoga Però si dai più atletico Visto che non lo sono E tutte le volte l'unica cosa che faccio è mangiare Quindi oggi farò Il saluto al sole Facendo yoga Mia sorella mi dia le indicazioni Io lo farò ma Se sbaglio qualcosa potete chiedere di me Continuate a vedere il video Vista sei pronta a fare yoga? No Allora Dritta e rivolgiti Scegli uno dei due lati Quale preferisci Non so da quale lato c'è il sole Da nessuno adesso Adesso c'è solo vento Posizione retta Spalle dritte con il bacino Pance in dentro Cioè nel senso Devi avere tutta una linea dritta Che parte dai piedi E arriva alla colonna Alla pezza Più o meno dai Mani a preghiera Davanti a te Appessa le spalle Sono troppo alte Vedi ci panno del dentro E qui E qui Punto uno Punto uno Ce l'abbiamo fatta Ok Ora Alza le braccia al cielo Sempre così Dritte Sopra di te Sopra di te Dritte al cielo E tu non siamo dritte Sopra così Brava E guarda in alto Anche tu Guardati là le mani Brava Ora Scendi giù Completamente E arriva con le mani A toccarti i piedi Ok La testa Abbasca laggiù Come se devi guardare Brava Ora Piaccia le mani Sopra le caviglie Le caviglie Non i piedi Le caviglie Le caviglie Non le ginocchia Ma vabbè Mi sento male E guarda in avanti In modo da Adrezzare la schiena Affiattisci la schiena Più che puoi Diciamo che non si affiattisca Adesso Metti pian piano Le mani davanti a te A terra Aspè aspè che non vedo Signore Non reggo Non riesco a leggere Ok vai Metti pian piano Le mani a terra Davanti a te Cioè cammina un po' con le mani Appoggia le mani Ok Ancora poco poco altro Dove lo dicevi? Adesso metti i piedi dietro 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 Come se devi fare il plank Plank però è dritto Non devi andare in giù Col bacino Ok Abbassati Come se devi fare una flessione Plank ho detto Perché sei qui A te con il sedere? Cambia basso È troppo bassa Plank per favore Così è il sedere alto Scendi poco poco alto Stop Tira su schede addominali Cavo le tassi Tira su schede addominali Cavo le tassi E mo abbassati con le braccia Come Diciamo che dovevi farlo lentamente Cominciati facendo una clessione Ma lo sapevo chiaramente Alza le braccia Brava Tira 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 Guarda su in alto Ok Ora ritorna indietro Cioè Scendi giù con la testa Brava E alzati con il sedere Come a formare una B Così Al contrario Una A Diciamo Capito? Alzati 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 Ok Appoggi i talloni Se riesci Ti devi allungare E appiattisci la schiena Abbassa le spalle Cosa? Appoggi i talloni Se riesci Appiattisci la schiena Abbassa le spalle Non ce la faccio Appiattisci la schiena Con la braccia più indietro Brava Ok Ora pian piano Ritorna con le mani ai piedi Ma c'è questo? Ok Guarda No Hai Alle caviglie Metti le mani alle caviglie Come prima Gambe dritte E allunga la schiena Guarda in avanti Ok Adesso Ti curvi completamente Guarda con la testa giù No Ti curvi con la schiena Le gambe stanno dritte Curva la schiena Schiacciati più che puoi Alle ginocchia E dunque Ancora la cosa E ora Alzati fino a sopra Come prima Ma con le mani Con le mani Tutto Andava fatto tutto piano Non pianissimo Però non ti devi dare lo slancio Vai Sono le mani che ti portano su Sono le mani Devono salire le mani Non la spalla Le mani Misa così sta salendo con la spalla Rifallo Mettiti giù Perché Ti ho detto È continuato Quindi non lo rifai Mettiti di nuovo giù Salgono prima le mani Ok E mo Sali su con le mani Brava Le mani miscila Preghiera Miscila Mettiti di preghiera Stai dritta con la schiena E con il corpo Dritta Non ti vedo dritta Sei tutta un filo Guarda su le mani Ok Ora prendi il respiro Vai in giù con le braccia E fai la preghiera davanti a stella Il saluto era questo Le braccia unite Non la patra Il saluto diciamo che era questo Non è rispettato per niente Tempi Mettanto meno il respiro Neanche te li ho detto Perché lasciamo perdere Però era questo il saluto Sono bravissima comunque In realtà Su questa immagine Non c'è una parte Dove alzati anche le gambe di dietro La vuoi fare? Sì Allora rimettiti a terra B Devi schiacciare con la spalla No Metti le mani più avanti E le spalle più indietro Bravo E adesso praticamente Devi alzare prima una gamba Ok Poi la abbasci E poi alzi l'altra E poi la abbasci E poi vabbè Ricominciamo tutto come prima Ma ricominciamo Mi dispiace No 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 Staccante questa cosa Spero che il video vi sia piaciuto Se anche voi avete riso con me Allora sono felicissima Perché io anche rito di me stessa Come solito vi ricordo di lasciare un pollice in su Di iscrivervi al canale E di attivare la campanellina Che adesso non ho perché sto In mezzo al bosco No non è vero Ciao E ci vediamo nel prossimo video Vi ricordo Ogni venerdì Oggi è Perché è speciale Uscita di martedì Però per il resto Ogni venerdì Ciao